Let's get it guys, se vuoi acquistare skin e v-bugs nel mentre supportare il paurino nazionale ricordatevi che potete scrivere fanatic trattino in mezzo power scritto ovviamente col 3 al posto della e in supporta un creatore, lo trovate in basso a destra nell'item shop di Fortnite ogni tuo futuro acquisto su Fortnite supporterà anche me e vi farò degli splendidi regali Let's get it boys Allora ragazzi oggi inizia l'allenamento, ve lo dico, grazie mille pure a GGH1GHV per il Prime Ambrogio998 per i due mesi, daglie PowerO, daglie bro, grazie mille e bentornato Non può darti quest'arma su solo 4 colpi Questa arma ti dà veramente troppi pochi colpi per reagire Ok Grazie a tutti. Perché su di me? Mannaggia che mira di merda che ho. Che mira di merda che ho. Che mira di merda quella sensibilità più alta. Faccio proprio cagare. Che va? Che va? Che va? Che va? Che va? Che vola. Ma ancora si sente il rumore scusatemi. No ragazzi è impossibile che si sente ancora il rumore di quello. V-Bucks per il torneo all'8 novembre. Che va? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. 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 Quasi. Quasi. Sì. 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 Sì.